Il secondo arrivo in casa Granata, si tratta di Giulia Beghini, arrivata dal Verona in settimana. Descriviti come giocatrice. Io gioco centrale di difesa, sono arrivata quest'anno al Torino, dopo che ho giocato per circa 8 anni nel Verona. Spero che sarà una bella stagione questa nuova squadra. Che gruppo hai trovato? Le ragazze sono molto simpatiche, tutte molto giovani, però sono brave tecnicamente e sicuramente faranno una bella stagione. Ecco, domani si parte per Tavagnacco, che partita ti aspetti? La squadra del Tavagnacco è molto forte, ma credo che, visto anche gli allenamenti della settimana, le ragazze riusciranno a fare bene. Ultima domanda, su quello che ti aspetti da questo campionato, sia a livello personale che di squadra? Beh, a livello personale spero di dare il mio contributo alla squadra, ma credo che insieme potremo riuscire a fare veramente molto bene. Grazie a tutti.